buongiorno buongiorno benvenuti secondo giorno di isia barcellona abbiamo fatto colazione abbiamo dormito bene ieri sera cena di philips con i ragazzi grazie io vedrete nel video di riassunto della giornata di ieri innovation awards dove i nostri partner datapath hanno vinto un premio meraviglioso per il vsn v3 l'ultimo nato nella famiglia dei controller per video quali sono gli appuntamenti di oggi edoardo apriamo alle ore 11 con gli amici di interspace industries dove nella hall 5 hall 5 c 420 ottimo andiamo avanti con digital projection ore 14 nel hall 3 vi aspettiamo stand k700 poi andremo dai gli amici di laudo sui ciao robert ciao ore 16 stand congress square quindi cs 518 laudo sweden vi ricordo meravigliosi diffusori acustici wireless che si installano in un secondo sui binari trifase standard ottimi per tutto quello che è l'ambiente retail e hospitality per finire per finire chiudiamo alle ore 17 con gli amici di sharing cloud che verranno speditati nella stand di cubic allora 17 dicevo all 2 t 500 all 2 a più tardi ragazzi ciao